di tutti i numeri al contrario che sta a giocare a lui ma lui gioca tipo tutti i bonus lui i numeri li gioca però gioca anche tutti i numeri quanto mette sul 2? tanto io mettere tipo 100 euro sull'1 mi sa che gioca tipo 5.000 sui numeri e 2.000 sui bonus gioca tutto tranne l'1 che poi fa la giocata che fanno pure noi però tipo molto più grossa però mi sa che gli sto a piscianculo ma io adesso ti dico una cosa spettatori si sai però qual è il fatto di Rothstein? sai quando è che lui gioca al Crazy Time? no quando quando non c'è stream come quando non c'è stream? si si lo lascia sotto in autoplay lui mette tipo i giri infiniti in autoplay non c'è stream probabilmente lui sarà o in bagno a cagare o tipo a fare la spesa ogni tanto mangia che dire? è quella la cosa che mi fa ridere lui che lui non c'è quando il Crazy lo ho visto sempre spinnato da lui solamente quando non c'è stava vado a ringraziare il volo di sub mh carlos got filled sub eh vabbè c'è l'azzi bella l'ulte devi dire no no per carità ancora un 5 infatti Marzo non c'è sta eh no ma è chiaro è chiaro ma tanto lui è slot guy madonna ma gli sono andati gli sono andati a romper cazzo eh certo c'è pure una bella community Rothstein porco di dirà ma sì eh sì questo ma io sto se hai giocato tutte le possibilità di staccia insieme cioè porco di dirà porco di dirà comunque quelli al di là delle bette quant'altro cioè quelli veramente a parara ma cosa ma cosa sta succedendo ma oggi so tre volte che vedo sti cinque all'infinito ma andarlo moltiplicare ma questo sta a cantare Pioli's on fire no no è this five is on fire ma comunque la canzone esiste ma io porco giù ci carico cent'euro sul cinque mo porco madonna la canzone è this girl is on fire non è Pioli's on fire la canzone fa this girl is on fire esatto ho fatto la mossa dell'antico vedi quei 25 sur 2 erano per servarsi da sto giro easy no è quella è quella Ale no stiamo sotto un treno o è quel 10 o non è cazzo però esatto se rallenta è il 10 è il 10 oh ecco ho giocato quei 25 si opera io potevo giocare tutti sur 10 io volevo giocare va bene va bene si ma deve uscire adesso un un metti i 15 sul bonus a sto punto no esatto forse adesso adesso vorremmo iniziare ricarica un pochetto di più no perché se no è inutile cioè è perché la quadra deprima il giro deprima ah si si però potevi abbassare il 10 il 5 si rallenta adesso sei puntato inizia a rallenta senza analogica no però se rallenta un pochetto ci vorrebbe da un bel pacionco ma non rallenterà purtroppo tutto bene Ale rostein no rostein c'ha c'ha un sacco dei sordi ne ha fatti tanti questo gambla dal day one che numero ve sentite io io l'uno l'uno marzo io voglio il 5 te ne hai cimbo te 5 vado sul k stavolta ma non ci pensi tipo da chi non l'ho fatto io non lo so però un po' penso mamma mia guarda che qua se dava un bel 1 per certo il coin flipper 7 mi potrebbe fare rosica rallenta stavo sotto un treno non mi dica paga il coin flip e non ce lo siamo giocati ma perché un un minimo sui bonus non l'avevo messo madonna mia se ci fa la bella pensa se mettevi 100 euro qua sopra comunque ha fatto questa risata avremo già 15 euro lo vediamo su mamma mia mo fa male si potevano essere 2000 euro 2100 euro fai il bravo serve la regola maestro eccola qua GG buono 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 se gode ma il coin flip è veramente imbarazzante porco dio vabbè toccava trasterk andava trastato io avevo fatto i soldi così e poi se rischiate perderli così veramente 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 giusto ma se giochi così 15 sui bonus sennò devi abbassare poi abbassare 10 e c si marzo ma non setteva usci un cashante per 25 eh no però con 15 era buono comunque e questo è onesto questo non mi dispiacerebbe però mi farebbe comodo ma questo non può uscire per nessuna ragione al mondo perché va dove non c'è il 10 il 10 vorrebbe uscire il 10 si infatti tienilo grazie buono vabbè 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 ragazzi c'è l'agile eh sbagliare me fai uno spammetto di prime grazie ma non è pubblicitale ma sennò ti prendo a sberle non ce ne frega niente degli streamer americani falliti parco di un gli mangio in testa quindi ci sei buono c'è la madonna madonna che mano che mossa che ho fatto abbastanza veloce non hai preso 15 neanche su uno però è bello guarda lo so è molto complicato sarebbe molto carino è molto complicato 10 due volte infatti va dove non c'è a questo punto pure il coin flip ce va bene ma no l'uno è meglio sì no l'uno perché almeno non ci vaga più che altro non so se riesci a comprendere ti diciamo 66 euro solo sui bonus e poi cambiamo dai bravo mi piace ti capisco ti capisco e ti gradisco 60 euro solo sui bonus vai mannala la via potevi anche dividerteli come preferisci 0,50 potevi mettere la puntata zitto clown zitto buffone voi siete fissati con sto cazzo di tamblur merda porco dio non gli ha fatto a capire rallenta signori signori bello signori peccato che non hai messo quell'eurino in più ma sti cazzi emo del cazzone emo del cazzone emo temo del cazzone emo temo del cazzone emo temo del cazzone prego lascia un bel board un bel board emo temo del cazzone ok il board con due o è il board eh no il board vomitemole con tre raga in realtà no con 16 sopra onestamente mezzo dove va oh madonna mia o c'è da quel 20 per o c'è da double se no siamo sotto una roccia da c'è sto double gira vai a sinistra sinistra dove cazzo va oh è però è il 2 no ma dammi il replay oh mi sembra eccessivo tre da sterra no no grazie il sub carlos 46 48 sul 10 ce le vamo no 48 sul 2 vai è il mio uomo il 2 ma perché pure a te ti è arrivata la soffiata del per 50 mo eh c'è pacinco per 2 per 2 pacinco comunque vorrei vorrei stringeri la mano per dirgli con che coraggio hanno ragionato sul fatto che un bonus potesse pagare per 2 guarda il 2 prima del cash non ci arriva no di nuovo ma ogni volta che non gioco c'è il coin flip eh niente ogni volta che quando vedete che non puntiamo sul bonus mettetevi 10 case sul coin flip si ma si che doveva pagare che doveva pagare sto coin flip probabilmente è una merda totale vediamo che doveva pagare tanto quando quando è un moltiplicatore sopra il 5 il secondo è sempre più basso quindi con 1000 euro sopra erano 8000 dai allora eh ma non si può purtroppo ma sto scherzando ma comunque no regà regà e mani mi dispiace e allo smano salaire però le mani in modo un po' più ma proviamo la puntata da 300 che ti dicevo io ho fatto 5-5-5 sugli ultimi 3 poi giocavo a 10 o 20 mani va bene curiosa mi sembra un po' tanto ma infatti ho fatto anche così però sempre con 5 euro sopra e facevo 10 o 20 mani 20 mani sono tante francesco eh lo so però sono numeri facili 1 2 e 4 quindi rischiavo di moltiplicatori sopra è così che volevo fare i soldi voglio mettere 5 euro sulla grazie mille fly grazie per il sap vale grazie per il sap voglio mettere 5 euro su 6.900 è il saldo totale sì siamo a 6.900 euro voglio mettere 5 euro sul 2 il 4 e l'8 che ne pensi francesco grazie mille